Terra Amara Spoiler, l'amato personaggio precipita dal terrazzo e rischia la vita. Terra Amara, sorprese dolorose, una bambina cade dal terrazzo e il destino di un amore in bilico. Gli appassionati della soap opera Terra Amara sono abituati a colpi di scena e dramma, e le prossime puntate non saranno da meno. La protagonista indiscussa, Zulia Alton, si troverà a fronteggiare nuovi ostacoli e tragedie nella sua tormentata storia d'amore e vita familiare. Se siete curiosi di sapere cosa succederà e non temete gli spoiler, continuate a leggere. Una tragedia inaspettata colpisce la famiglia Yaman, la piccola Leila cade dal terrazzo. Zulia diventerà presto madre per la seconda volta, dando alla luce Leila, la prima figlia di Demir. La bambina è chiamata così in onore della donna che si è presa a cura di Zulia dopo la morte della madre. Nonostante la gioia per la nascita di Leila, la felicità verrà oscurata da un tragico evento che avrà luogo nella residenza Yaman. A causa di una disattenzione da parte di Fadik, che si stava prendendo cura di lei, la piccola Leila precipiterà dal terrazzo di Villa Yaman, sotto gli occhi sgomenti di Zulia. La bambina verrà trasportata d'urgenza in ospedale in gravi condizioni, lasciando la madre devastata dalla paura di perderla. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei medici salverà la vita di Leila. Ma questi momenti drammatici lasceranno un segno indelebile sulla famiglia Yaman. E purtroppo, il dolore non finirà qui. Il destino di un amore in bilico, la perdita di Ilmas Akeia. Proprio quando sembrava che Ilmas Akeia avrebbe potuto vivere finalmente il suo amore con Zulia, il giovane perderà la vita in un tragico incidente stradale. La sua morte segnerà profondamente Zulia e lascerà i telespettatori in lacrime di fronte a questo drammatico addio. Questi eventi intensi e drammatici saranno al centro delle prossime puntate di Terra Amara. Ma le emozioni non mancheranno di certo.